La più bella d'Italia alla scoperta delle bellezze della nostra regione, una giornata tutta marchigiana, quella vissuta da Rachele Risaliti, la 22enne toscana insegnante di ginnastica ritmica, vincitrice della 77esima edizione del concorso di bellezza più famoso e longevo d'Italia. È stata lei infatti lo scorso 2016 ad aggiudicarsi l'ambita corona di più bella. Arrivata alla stazione centrale di Ancona ad accoglierla e a farle da guida i referenti regionali del concorso di Miss Italia, il rappresentatore ufficiale Marco Zingaretti e l'agente regionale Giuseppe Filloramo della Relife Servizi con l'organizzazione dell'agenzia PAI di Mimmo del Moro che da oltre 30 anni si occupa della preparazione del concorso per le regioni Marche e Abruzzo. Tra le tappe del tour Monte San Vito, Rachele è rimasta fin da subito colpita dalla bellezza di questo piccolo gioiello della provincia di Ancona, ammirando l'architettura di Palazzo Malatesta così come la suggestiva scalinata del comune dove sono ancora visibili i danni provocati dal sisma. A coronare la visita, l'omaggio floreale da parte di Mai, la boutique del fiore. Dalle colline marchigiane la visita è proseguita verso la costa e così ad accogliere la missa è stata la cittadina della spiaggia di Velluto. Rachele ha visitato il centro di Senigallia e si è concessa una passeggiata sul lungomare fino alla rotonda mare. Dopo un assaggio delle tipicità nostrane con tappa al ristorante da Carlo sul lungomare a Lighieri, il tour nelle Marche è proseguito fino ad Ostravetere. Qui non poteva mancare un brindisi al bar Contini prima di ripartire per Ancona dove ad incantare Rachele è stato il centro cittadino e poi il panorama ammirato da San Ciriaco e da Marina Dorica. Le località visitate dalla Miss sono solo alcune delle realtà che ospiteranno le prossime Selezioni 2017 che prenderanno il via a metà giugno per concludersi con la finalissima regionale a metà agosto quando conosceremo la nuova Miss Marche 2017.